siamo in onda secondo solo giusto per stare tranquilli faccio un controllo ok siamo in diretta su facebook benvenuti su stroncature buon lavoro prego armando grazie anuncio prima faccio un appello per abbonarsi a stroncature 5 euro al mese per rendere possibile queste discussioni che avvengono ogni giorno su stroncature e danno la possibilità a chiunque di presentare il proprio libro di esprimere il proprio parere abbiamo presentazioni che vanno dalla storia alla sociologia all'antropologia la filosofia quindi organizzato in concorso con cantiere storico filologico stroncature cantiere storico filologico oggi presentano il libro di dei professori marcello flores e giovanni gozzini il vento della rivoluzione la nascita del partito comunista italiano nei cent'anni dalla nascita del partito comunista a parlare con noi abbiamo alex obel dell'università degli studi di napoli e giovanni cerchia professore ordinato di storie contemporanee appresso iniziai studi del morise e attento studioso della sia della nascita del partito comunista che anche della guerra di liberazione i due autori sono giovanni gozzini dell'università di siena e marcello flores dell'università di siena entrambi grandi storici hanno scritto per la terza il professor flores storia della resistenza con mimmo franzinelli poi anche genocidio armenio che ho avuto il piacere di leggere e professor gozzini la mutuazione individualista gli italiani e la televisione l'età dell'isordine altri libri di storia del giornalismo io quindi darei la parola a gianni cerchia per introdurre il lavoro il lavoro il avvento della rivoluzione la nascita del partito comunista italiano poi dopo avviare il dibattito prego gianni io voglio ringraziare insomma è un piacere leggere questo libro poi più che l'introduzione perché avrei bisogno di ben altri tempi insomma è appunto un libro complesso che sollecita tutta una serie di questioni di nodi a un approccio interpretativo complesso allora io la metto così in maniera un po tematica dicendo un po le cose che mi hanno colpito di più e anche alcune questioni che magari sottopongo anche alla valutazione degli stessi autori tanto per incominciare mi sembra insomma che sia uno dei primi libri e coglie l'occasione del centenario per farlo mi sembra una scelta più che opportuna e felice che supera la discussione intorno alla frattura del 1921 affidata a interpretazioni non dico polemiche ma che stanno dentro la fortuna di quella scelta diciamo il vincolo più o meno positivo di quella scelta tutta la discussione che tradizionalmente c'è stata sull'occasione rivoluzionaria piuttosto che sull'errore perché la divisione del movimento socialista di fronte allo squadrismo all'avvento del fascismo i due autori citano spesso la posizione di giorgio amendola no che arriva in questo dibattito fin fin dagli anni sessanta a elaborare una come dire singolare categoria no quella dell'errore providenziale giorgio amendola che non viene dalla dalla cultura socialista che figlio di cotanto padre e che si forma come dire seguendo altri paradigmi che in qualche modo eredita anche il giudizio del padre sul bienio rosso che un giudizio come tutt'altro che affidato alle valutazioni sulla l'occasione rivoluzionaria come è noto non ci vengo nemmeno ad approfondire questo tema e quindi eredita quello a proda al pc e dopo la morte del padre per una scelta eh come dire di 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 radicale antifascismo e questa forza politica interpretava nella vicenda italiana per tutta una serie di ragioni non solo di carattere ideologico e politico ma anche di scelte organizzative il partito comunista d'italia eh non lo ricordo i presenti che lo sanno benissimo lo ricorda chi ci sta ascoltando è l'unica forza politica che dopo lo scioglimento decide di continuare a esercitare una presenza cospirativa all'interno del paese no e questo ha una una funzione di attrazione quantomeno nei confronti di una eh di una di una generazione di gruppi no che continueranno ad esercitare a manifestare una volontà eh di opposizione eh al fascismo errore provvidenziale perché Giorgia Mendoza riconosce eh dal suo punto di vista eh che fu una come dire una una frantumazione che indebolì eh le sinistre che indebolì il movimento socialista in maniera particolare di fronte all'ondata che sta per arrivare ma allo stesso tempo aggiungi a me rendola quell'errore consenti di forgiare una leva no che poi attraverso la cospirazione le carceri la resistenza eh hanno dato o come dire un'ossatura fondamentale eh alla successiva storia repubblicana e democratica del del nostro paese questo libro mi sembra che vada un po' a non mi sembra insomma va molto oltre tutta questa discussione è una eh il passo indietro che ti consente di vedere meglio no ci dà la possibilità di aprire io credo una discussione interpretativa che appunto come si sta dentro tutta un'altra stagione non potrebbe che essere così ancorando la riflessione eh come dire a una eh lettura più complessiva dei caratteri del nostro secolo eh al principio eh come dire apparentemente io credo così aver capito insomma collegando eh diciamo la 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 frattura della famiglia socialista la nascita dell'esperienza comunista eh ai temi di fondo del secolo breve no alle fratture che ne hanno determinato la nascita e la fine poi in realtà eh credo che ci sia qualcosa di più eh nel il il tema delle delle guerre mondiali che hanno segnato la prima parte di questo novecento che sono poste lì come le due i due passaggi di vari canti fondamentali no il tema le due guerre totali la prima eh la guerra mondiale che eh come dire sollecita eh una serie di trasformazioni di accelerazioni della società dell'economia della politica ma che poi produce per il suo carattere logorante eh totale e di massa eh quella stanchezza no che produrrà da per un verso il collasso dell'esperienza zarista che non era scontata anche qui c'è tutta una discussione della letteratura che anche nel corso degli ultimi anni è stata messa in campo estremamente interessante ma del che come dire arriva all' implosione di fronte appunto eh all'esperienza della guerra totale di quella di quella guerra totale dell'inadeguatezza eh della Russia a sostenerne a sostenerne il peso e poi come dire il 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 in un contesto la stanchezza eh questa stanchezza di questo logoramento della guerra le termine le condizioni ma per una eh più generale ehm trantumazione degli equilibri tradizionali e il il per un verso eh l'esempio russo come possibile via d'uscita insomma del del malessere che si diffonde eh nel vecchio mondo nel vecchio mondo messo messo in crisi ehm eh e quindi più che un'occasione io credo questo è un giudizio che mi sembra di poter condividere fino in fondo insomma più che il giudizio sull'occasione più o meno mancata dell'ipotesi rivoluzionaria eh effettivamente siamo di fronte a una svolta epocale di carattere più complessivo eh per un verso e poi alla nascita eh della dell'esperienza delle sezioni nazionali della terza internazionale più sulla base anzi sulla base eh di una sconfitta più che della diciamo della vittoria di un'ipotesi rivoluzionale non è tanto la vittoria eh dell'esperienza sovietica porsi come un paradigma quando eh come dire il l'esito di del della fase terribile del comunismo di guerra che culmina eh nella battura d'arresto del 1920 di fronte sulla vistola di fronte a Varsali e poi no l'anno successivo la la pace di riga il 1921 credo i duratori e parliamo di una crucialità non si ricordo bene del 1921 che è l'anno in cui per l'appunto nel marzo del 21 la pace di rica ma anche il decimo congresso del partito del partito comunista russo e allo stesso tempo appunto il momento in cui nasce no qualche settimana prima il partito comunista il partito comunista d'Italia è un elemento e non solo è il momento in cui c'è anche un ripensamento delle stesse politiche economiche eh con con il varo con il superamento del comunismo di guerra e il varo della nuova della nuova politica economica nell'ottica di una stabilizzazione del fallimento dell'ipotesi rivoluzionaria della diffusione rivoluzionaria eh per quello che è accaduto in giro per l'Europa dalla vicenda ungherese alla sconfitta del bienio rosso italiano alla tragica eh i tragici episodi berlinesi del gennaio del 1900 del 1919 eccetera 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 e questo e questo mi sembra un dato eh estremamente interessante che si ripropone eh come dire nella discussione con nel intorno all'altro conflitto la seconda guerra mondiale e anche questa è un'ipotesi estremamente interessante che condivido è è è l'altro punto di variante no? Dopo la seconda guerra mondiale scrivono i nostri autori eh è tutta un'altra storia credo che usino proprio queste parole no? Rispetto al partito comunista d'Italia sezione della terza internazionale segnato dalla leadership e dalla spinta di Amadeo Amadeo Bordica è cambiato è cambiato tutto ci sono alcune alcuni elementi insomma che eh come dire eh producono un un salto che rende incommensurabile le due le due esperienze va anche detto eh che eh come dire è un eh in questa in questo porsi delle due guerre mondiali come eh come dire elementi regolatori no? Del processo c'è una simmetria di fondo no? Che sta proprio nel carattere credo delle due guerre l'esperienza totale della seconda guerra mondiale è un'esperienza compiuta il pieno coinvolgimento del fronte interno che fa sì che si cali più pienamente all'interno delle rispettive società civili tanto da sollecitare eh come dire aspetti che si traducono anche in guerre civili in un confronto che attraversa eh gli stati che non è solo guerra convenzionale un'articolazione tra collaborazionismi da una parte resistenza e dall'altra quindi la seconda guerra mondiale a differenza della prima che fa da contesto eh generale che fa in qualche modo giustificare anche l'idea che ci sono eh questioni di carattere esogeno no? Eh internazionale per l'appunto che fanno da cornice alle trasformazioni la seconda invece ha una eh un valore che sia esogeno che indolge no? Che ha un impatto più forte nelle singole storie nazionali e dove pesa di più l'originalità no? Della eh delle scelte eh e delle vicende insomma che le compiute all'interno dei singoli paesi in particolare anche per l'Italia e il nostro paese l'esperienza che il Partito Comunista Italiano ha compiuto nella resistenza ehm con tutte le ambiguità il tema della della svolta di Salerno e come questa ha mutato la la forma la cultura eh di questa di questa formazione politica eh voglio dire che dentro questo quadro che appunto è molto interessante eh il mi sembra di cogliere un un elemento e questo è una delle questioni che voglio sottoporre come interrogativo insomma ai nostri autori un elemento di sottovalutazione per esempio però del passaggio del del anzi no utilizza ancora le loro parole del miracolo di Lione no? Del il congresso del 1925. Io credo come dire che in quel passaggio lì ci sia però un'elaborazione eh che senza determinare insomma le vicende successive però eh anche lì già in quel passaggio muta profondamente il genoma eh di questa di questa formazione politica quando meno per come dire la spinta eh a quella che sarà chiamata l'analisi differenziata lo studio del contesto eh nazionale specifico la 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 messa in campo di una riflessione sulle forze motrici e anche eh sulla considerazione eh rispetto alla questione contadina che nella vicenda italiana ha una funzione eh straordinaria importante insomma è molto suggestivo quello che vi ha detto il libro a proposito della mancanza di una forte considerazione della questione agraria da parte delle due culture fondanti il partito comunista d'Italia no? Il bordiga napoletano ma è strano ideologicamente al tema Gramsci eh sì non 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 lontano però in qualche modo a Torino insomma il tema è quello dei consigli consigli di fabbrica perdonatemi se lo dico in questo modo uno sconatico e riassuntivo eh però eh come dire colpisce molto il fatto che quel gruppo ordinovista candidi nel quattordici salvemini cioè che in qualche maniera ponga il problema dell'unità tra la la il movimento operaio e i contadini poveri del mezzogiorno lo raccolga cioè in qualche modo è uno sviluppo che porterà credo insomma e al 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 all'intuizione del l'unità del giornale no? E come dire alla 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 riflessione sulle forze motrici del venticinque ma anche al al saggio sulla questione meridionale del del 1926 che credo come dire facciano eh siano un patrimonio importante per l'elaborazione successiva di Gramsci ma anche per perché rappresenta materiale che verrà utilizzato in quella fondamentale svolta eh appunto operata nel corso della seconda guerra mondiale ereditata nella fase nella fase successiva eh tutto eh come dire il è chiaro che poi la storia successiva della seconda guerra mondiale è una storia eh estremamente differente anche qui articolate che andrebbe andrebbe indagata con certo con maggior ehm attenzione da parte mia nella nella riflessione tempo purtroppo non ne abbiamo eh il PC diventa un pezzo della storia repubblicana portandosi dietro valori e limiti no? C'è una riflessione estremamente interessante che viene proposta sulla il timore del conflitto sulla il riprodursi nella scelte strategiche di questo partito del tema dell'unità del paradigma resistenziale come eh fondamentale politica dell'alleanza no? Il triennio 45-47 riproposto nei fatti anche da Berlinguer nell'elaborazione del compromesso storico ma se vogliamo anche dopo la crisi della solidarietà nazionale nella cosiddetta seconda svolta di Salerna riecheggia nei fatti un tema un tema di questo di questo genere ehm ehm quello che eh come dire eh mi colpisce molto eh in in questa riflessione che appunto avrebbe bisogno di ben altri tempi appuntamenti anche per il valore del del libro che siamo di cui che stiamo presentando è un un nodo che io vorrei sottoporre anche questo agli autori da un certo punto nella in questa repubblica dei partiti che sorge l'indomani della seconda guerra mondiale dopo i partiti dove i partiti svolgono un ruolo di supplenza funzionale a una incapacità del sovrano popolare di manifestarsi direttamente no? L'articolo primo della Costituzione affida la sovranità al popolo i partiti di massa trionfano eh hanno le DC, PC, PSIUP e PC eh hanno il il settantacinque per cento di un'assemblea costituente esercita una una mediazione necessaria e riorganizzano la società civile e in quella mediazione interpretano il sovrano popolare. È chiaro che negli anni sessanta eh tutto questo inizia in qualche modo a saltare c'è una società più dinamica, più complessa che manifesta, incarna per la prima volta il sovrano. Io ho sempre letto la stagione dei movimenti no? Che sbocca nella la 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 fine degli anni sessanta come questo squadernamento della società civile e la spinta di un sovrano popolare che si libera in qualche modo, conquista spazi di autonomia però dalla politica a prescindere dalla dalla dai dai partiti senza sostituirli ma inizia un processo di logoramento, si manifesterà in maniera chiara nel settantaquattro no? Il voto del divorzio dove c'è per la prima volta questo manifestarsi forse del voto d'opinione rispetto al voto al voto di appartenenza più eh più tradizionale. Eh io la leggo anch'io un passaggio nella stagione dei movimenti estremamente interessante. Mi convince fino a un certo punto l'idea che in quel momento però il dinamismo sociale sia eh così così forte, così eh come dire importante e centrale da rendere poco invitanti i partiti. no? Il credo, se ricordo bene il passaggio, gli autori ipotizzano insomma che da quel momento in poi i partiti diventano poco interessanti e molte delle energie più eh creative si rivolgono altrove. Eh ehm probabilmente c'è anche questo ma credo che non sia solo questo, credo che come dire sia articoli differentemente il rapporto tra società e istituzioni ed è questo perché il come che mi ha colpito molto perché anche ho sempre ritenuto, almeno ho sempre immaginato che uno dei limiti fondamentali della riflessione dei comunisti in quegli anni sia stata non cogliere fino in fondo la modernità, no? Che questo squadernamento del soprano e la stessa ipotesi del compromesso storico scontasse eh una difficoltà a comprendere come l'esercizio di mediazione dei grandi partiti di massa che restavano un importante centrale eh come dovesse invece fare i conti con questa nuova articolazione della dinamica sociale. Eh il su questo mi piacerebbe molto come dire comprendere il come le convinzioni, una riflessione da parte degli autori perché credo che sia uno dei modi eh importati insomma della testimonianza del protagonismo di questo partito nella nostra storia nella nostra storia repubblicana. In ogni caso eh come spero di aver fatto insomma per quanto chiedo scusa per diciamo lo schematismo e la e l'estrema sintesi ehm questo libro è estremamente interessante è un un libro che eh ci permette io credo davvero insomma eh in maniera significativa di affrontare eh un tema che ha segnato la storia del novecento la vicenda italiana e non solo sottraendoci a un dibattito che spesso è stato eh come dire il ehm inteso più in termini di polemica politica che di ricerca storiografica. Ci dà una serie di strumentazione, una strumentazione, alcuni paradigmi interpretativi che ci vanno fare notevoli eh passi in avanti. Al di là di che avesse torto ragione il che appartiene eh eh come dire certamente una dimensione del del giudizio umano ma che affida alla storia al al contesto storico una serie di scelte che eh prescindono dai torti e dalla ragione che sono inseriti appunto nelle nelle grandi trasformazioni, nelle grandi tragedie di un secolo straordinario eh come è stato quello ventesimo e al quale è l'appunto il partito comunista appartiene fino in fondo eh e credo che questo sia il tema di fondo insomma il tema cruciale insomma sottoposto a noi dai due votori. Grazie Gianni. Io ora diamo la parola ad Alex Sobel. Prego Alex. Sì. Allora un ringraziamento anche da parte mia, da Armando Pepe, a Stroncature, al cantiere storico-filologico per eh insomma avermi coinvolto in questa presentazione eh di un libro molto interessante come diceva eh poco fa Gianni che ha il merito di offrire un'interpretazione e chiaramente i libri che offrono un'interpretazione fanno riflettere e offrono anche il terreno per una discussione. Quindi credo che eh questi siano dei primi elementi importanti. Eh il punto di forza del libro che emerge già eh dalle prime pagine oltre a quello di inquadrare la vicenda del comunismo italiano nel quadro europeo e mondiale e eh sottolineare con forza il nesso tra guerra e rivoluzione. La stanchezza della guerra scrivono gli autori, l'impressione generata dal massacro eh e certamente senza guerra non ci sarebbe stata la rivoluzione d'ottobre, senza la rivoluzione d'ottobre non ci sarebbe stato il PC. Questo eh però non credo che eh ci possa portare a concludere che la nascita del PC sia un accidente o una deviazione della storia. Perché eh una deviazione e un accidente della storia non sono state appunto la prima guerra mondiale e la rivoluzione d'ottobre. È una guerra appunto di proporzioni globali che dura cinque anni, che si conclude col crollo di quattro imperi, non è un mero accidente o incidente della storia e quindi anche le sue conseguenze, i suoi effetti hanno una una portata rilevante. Eh diciamo è un effetto, è un il manifestarsi di processi profondi, certamente senza nessuna inevitabilità, ma di processi profondi che eh avevano covato, erano maturati negli anni precedenti e che poi portano a delle conseguenze che esse stesse in qualche modo stavano maturando. Del resto i due autori lo dicono con parole molto efficaci, proprio inquadrando la vicenda sul piano globale, non solo in Europa, ma anche forse soprattutto nell'Asia di Gandhi, Mao Zedong o Chimin, la guerra incrina il senso di superiorità della civiltà occidentale. La fiducia del capitalismo sappia assicurare a tutti un futuro migliore. La guerra semplifica e riduce la visione del mondo a un'opposizione manichea tra chi la subisce e chi la sostiene. Soldati contro ufficiali, poveri contro ricchi, perturati e quelli che la pensano come lui rimane sempre meno spazio. La fine della guerra subito diventa una rivendicazione immediata, la faccia più vera e concreta della rivoluzione. Infatti ricordano che uno dei primissimi eh provvedimenti assunti dal governo eh rivoluzionario dopo l'ottobre è proprio il decreto sulla pace. Eh perché eh è fondamentale insistere su questa cesura della guerra perché poi la guerra oltre a tutto questo porta con sé appunto il tracollo della seconda internazionale, un altro elefante nella stanza per usare l'espressione che eh gli autori usano ripetutamente nel volume che non non si può sottovalutare. Quindi oltre alla divisione eh tra riformisti e rivoluzionari il problema è che la seconda internazionale cade proprio su un tema fondamentale e fondante cioè il tema della guerra e della pace e proprio nel corso di quelle contraddizioni emerge quella sinistra a Zimmerwald a Quintal da cui poi prenderà le mosse il movimento comunista. Quindi eh credo che facciano bene benissimo i due autori a insistere molto sulla cesura storica determinata dalla guerra e poi naturalmente accanto alla guerra la rivoluzione. Anche qui vorrei leggere questa volta un passo più breve eh i bolscevichi vittoriosi catalizzano una crisi già in corso della tradizione socialista della seconda internazionale. Una tradizione antica e gloriosa ma fondata su un quadro concettuale positivistico ed evoluzionistico che non prevede la guerra. Eh questo è un altro elemento fondamentale. Quindi vengono meno diciamo dei dei pilastri non degli elementi di dettaglio. Sono fatti enormi e questo ci spiega la frattura nel movimento operaio a livello mondiale non certo non certo soltanto in Italia. Diciamo che forse sarebbe stata un'anomalia e una deviazione della storia se solo in Italia questa eh rottura questa frattura non si fosse prodotta. Anche se è vero che in Italia eh il Partito Socialista aveva assunto un atteggiamento diverso e quindi forse diciamo se in un paese questa frattura poteva non accadere questo poteva essere il nostro. Eh gli autori poi vengono proprio sul sul contesto anche nazionale sul eh sul quello che viene definito il biennio rosso pongono anche in in discussione in questione questa stessa definizione ma accanto alla definizione eh diciamo se in quella fase appunto tra il diciotto e il venti vi fosse in Italia una situazione preinsurrezionale potenzialmente rivoluzionaria. Ora questo chiaramente è un problema enorme e non mi azzardo neanche eh a a entrarci ma eh è indubbio però che in quel biennio eh non solo a partire dai moti per il pane contro la guerra del diciassette per arrivare alle mobilitazioni operai del venti ma soprattutto i moti contro il caro vita del diciannove che hanno una dimensione nazionale e in cui camere del lavoro e cooperative gestiscono i rifornimenti alimentari gestiscono la distribuzione gesti assumono dei poteri che diciamo tradizionalmente sono dei poteri pubblici ecco quella mobilitazione comunque poneva dei problemi che non erano soltanto di carattere sindacale ma dei problemi di potere e ed è indubbio che adesso quale potesse essere l'esito ripeto è questione troppo eh troppo complessa e non mi sentirei di 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 accennare eh neanche delle ipotesi ma è indubbio che in quei frangenti si manifesti una incapacità di direzione dei gruppi dirigenti del PSI e della CGL che stimolano le sinistre interne in particolare al PSI prima appurre l'esigenza di un rinnovamento del partito no? Eh importante sempre ricordare che la prima il primo documento su cui si ehm che che attira l'attenzione e che ha l'approvazione di Lenin è quel documento della sezione torinese per un rinnovamento del partito socialista quindi prima si cerca questa strada Bordiga invece da prima già va su una su una via diversa e poi appurre l'esigenza di un nuovo tipo di partito perché si ritiene che quello strumento non riesca più a essere incisivo in quel contesto io credo che lo fosse eh proprio per la diversità di opzioni strategiche che convivevano al suo interno perché come giustamente gli autori dicono Turati aveva una sua linea molto chiara molto precisa eh molto netta che però era del tutto incompatibile con quella di Bordiga Gramsci eccetera forse i quelli che avevano come dire un'idea meno chiara erano proprio massimadisti era proprio l'ala diserratica infatti rimane rimane a metà strada però questo questa sfiducia nella capacità di direzione dei gruppi dirigenti riformisti in qualche modo spiega anche quel settarismo antiriformista che gli autori eh rilevano e spiega anche un po' la popolarità di Bordiga in questa fase perché nella prima fase non solo per diciamo il fatto organizzativamente di aver posto le basi dell'ascissione con largo anticipo ma perché Bordiga veniva da lunghe polemiche antibloccarde contro il socialismo bloccardo le alleanze che si facevano a livello di enti locali l'elezionismo diciamo era una polemica eh ormai che durava da alcuni anni e che evidentemente però riesce a cogliere dei dei tasti a dei tasti dei tasti dolenti che tipo di partito quindi eh viene viene costituito eh ed è secondo me significativo che questo nuovo partito che nasce con una scessione minoritaria eh su cui sia Lenin la terza internazionale che Gramsci avranno poi molto da da ridire da recriminare però vede l'adesione massiccia dei giovani questo è un altro elemento rilevante è eh ma il partito che nasce che si forma nei primi anni è indubbiamente quello che gli autori descrivono partito dogmatico settario fortemente segnato dall'impostazione eh schematica di Bordiga per cui l'obiettivo posto da Lenin in una citazione che pure gli autori riportano della conquista della maggioranza dei lavoratori non si afferma subito si afferma a fatica ed è però questo uno degli elementi su cui poi matura la riflessione del nuovo gruppo dirigente quella riflessione collettiva anche aspramente autocritica e quell'intenso confronto politico che poi Togliatti renderà pubblico all'inizio degli anni sessanta pubblicando quel carteggio no la formazione del gruppo dirigente del del PC ci fa vedere che accanto alle pressioni che vengono da Mosca dal Comintern per la politica del fronte unico per uscire al settarismo eccetera però c'è anche una riflessione che matura nel gruppo dirigente italiano e che arriva poi appunto alla formazione di questo nuovo gruppo dirigente con le cose che dice e che teorizza Gramsci in particolare in quel comitato centrale dell'agosto del 24 su cui gli autori eh su cui gli autori si soffermano. Lì Gramsci dice delle cose anche molto significative sul partito. Dice bisogna attrezzarsi in modo che il partito diventi idoneo alla sua missione storica in ogni fabbrica in ogni villaggio deve esistere una cellula comunista che sappia lavorare politicamente quindi che non stia lì in attesa dell'ora X. Dobbiamo diventare un grande partito quindi lottare contro la tendenza a tenere angusti i ranghi del partito ma lottare per diventare un grande partito attirare nelle nostre organizzazioni il più gran numero possibile di operai e contadini per educarli alla lotta farne degli organizzatori e dei dirigenti di massa elevarli politicamente. Ecco qui siamo proprio all'antitesi del partito dei duri e puri dei pochi ma buoni eh che Bordiga aveva delineato. E non a caso in quella stessa relazione dell'agosto 24 Gramsci parla di quella idea di trasformazione molecolare delle basi dello Stato come elemento centrale del processo rivoluzionario. Gli autori secondo me opportunamente eh riportano quel eh quel passaggio. Ecco mh questo questi passaggi io credo che eh introducano degli elementi di novità anche sull'idea stessa di rivoluzione. Quindi la rivoluzione comincia a non essere più vista in termini quarantotteschi no? Ricordiamo la polemica di Engels eh sulla idea quarantottesca della rivoluzione poi ripresa da Gramsci nei quaderni eh e rivolta contro Trotsky eccetera. Quindi la rivoluzione comincia a essere vista come qualcosa di più complesso del semplice assalto al Palazzo Inverno. Del resto appunto proprio nel carteggio che citavo prima Gramsci lo dice no? La differenza tra Oriente e Occidente cose che che sappiamo bene. Quindi anche l'idea stessa di rivoluzione comincia a cambiare comincia a diventare un processo. C'è un passaggio molto bello di Togliatti che appunto Ragionieri che prima veniva citato eh riprendeva nella nella sua biografia di Togliatti che riguarda una riunione dell'ufficio politico del ventisette dove Togliatti dice la rivoluzione proletaria non è un atto isolato ma un processo che passa per diversi momenti e poi aggiunge ogni rivoluzione per essere vittoriosa deve essere popolare deve avere cioè il concorso delle grandi masse popolari e immagina che così possa essere la rivoluzione antifascista la rivoluzione italiana. Ecco questo mi sembra un altro elemento importante cioè a partire dalla metà degli anni venti i comunisti italiani cominciano a ragionare su una doppia prospettiva questo è ampiamente documentato quale che cosa potrà scalzare il fascismo forse una rivoluzione proletaria e ponga subito l'obiettivo il socialismo costituisca i soviet forse ma forse invece la prospettiva sarà un'altra sarà una rivoluzione popolare antifascista quindi con un arco di forze sociali più ampio che a quel punto non porrà subito l'obiettivo dei soviet del socialismo porrà un obiettivo democratico avanzato più più e poi lì come si dice chi ha più filo tesserà naturalmente è chiaro che i comunisti mantengono la loro prospettiva vogliono fare il socialismo però non escludono che ci si possa arrivare per questo processo più complesso e questo li porta anche a approfondire ad articolare di più la loro riflessione sull'unesso democrazia socialismo cosa che poi trova le sue punte più alte negli anni trenta nelle elezioni sul fascismo di togliatti dove togliatti sottolinea non solo il fatto che dove i lavoratori organizzati non vogliono che le istituzioni democratiche parlamentari siano distrutte è più difficile quasi impossibile che queste siano distrutte quindi c'è il richiamo alla necessità di una lotta difensiva per quelle istituzioni di cui pure si erano criticati i limiti e che pure si volevano superare ma c'è anche quell'altro elemento che togliatti mette in luce da questa lotta difensiva si può poi prendere le mosse per una lotta offensiva quindi la democrazia diventa un passaggio anche per andare avanti è chiaro che loro non volevano la democrazia liberale all'epoca non c'era neanche il suffraggio universale esteso alle donne chiaro che volevano una democrazia di tipo nuovo però questo tema della democrazia comincia a entrare in modo forte e qual era questa democrazia di tipo nuovo chiaramente c'erano idee ancora confuse ma quello che togliatti vede in spagna che poi scrive nel suo articolo le particolarità della rivoluzione spagnola è un po questa democrazia di tipo nuovo infatti usa questa espressione quindi una democrazia che taglia le gambe al fascismo perché diciamo colpisce i sceti che hanno sostenuto il fascismo in quel caso la sollevazione franchista quindi la grande proprietà terriera la grande industria quindi processo di socializzazioni che però non è che non riguarda tutta l'economia non è il socialismo non non è il partito unico è qualche cosa di diverso di intermedio possiamo dire e questo secondo me un elemento è un elemento da rimarcare perché ci spiega anche meglio ci fa capire anche meglio come poi togliatti arrivi alla proposta di democrazia progressiva del 44 e quindi io credo che ci sia un filo capisco e condivido anche le sottolineature e i richiami che gli autori fanno a più riprese nel volume di evitare quella idea diciamo quasi metafisica per cui c'è una continuità diciamo senza cesure senza contraddizioni che dal gramsci degli anni venti porti poi necessariamente a togliatti e da lì a berlinguer quindi è chiaro che questa lettura così semplice così lineare non può lasciare soddisfatti ed è chiaro che quindi rispondeva anche a esigenze di una determinata epoca della politica e della storiografia e quindi giustamente bisogna fare dei passi avanti e secondo me questo libro ci aiuta molto a fare questi passi avanti però non perderei neanche del tutto l'idea di questo filo e di questa particolare attenzione che i comunisti italiani danno a due a questi due elementi la rivoluzione come processo e il nesso democrazia socialismo perché i comunisti italiani lo fanno più di altri un po' per le capacità dobbiamo dire o spessori intellettuali di gramsci di togliatti che non era quello di talheimer o di telman o di dirige o di brandler o di altri dirigenti del partito tedesco ma poi anche perché per primi nel nostro paese sfortunato avevano dovuto fare i conti col problema del fascismo e quindi necessariamente erano stati costretti a riflettere di più sul tema della democrazia e quindi io credo che questa in questa riflessione poi ci sono tutti gli elementi tattici strumentali delle ambiguità questo secondo me non va non va negato però c'è un corpo c'è un nucleo forte che poi diciamo ci dà quella originalità del comunismo italiano su cui non bisogna insistere troppo quindi non bisogna fare dell'eccezionalismo e che però in qualche modo è un dato che esiste su cui non a caso si sono spesi fiumi d'inchiostro e quindi credo che questo libro ci aiuti a fare un passo verso questa lettura più equilibrata che quindi diciamo senza assolutizzare l'eccezionalismo e legando la storia del pc a quella del comunismo mondiale il comunismo globale però ci porti anche a non perdere quella specificità quell'originalità che poi ne ha ne ha fatto un elemento di forza straordinario grazie alex prima di dare la parola agli autori volevo dire che ho colto quello che hai colto anche tu nell'introduzione ci sono due termini che io mi soffermo molto sui termini che sono semiofori ad esempio caro viveri c'è lo sciopero per il caro viveri se uno va nell'archivio c'è tra lo stato e vede le carte del 20 e 21 approfluio che vede sempre caro viveri capo caro viveri scioperi e poi la polarizzazione nel senso che durante la nascita del pc già c'era in nuce il partito fascista che poi esploderà tra i propri tra il 20 il 23 21 e 22 cioè con serie azioni di violenza insomma e questo è quello che uno può notare durante la nascita del partito comunista quindi nel 21 ora dare la parola al professor flores così inizia prego professore grazie grazie intanto dell'invito grazie a stroncature grazie a quando pepe e grazie a cerchia e hober che hanno intanto letto il libro con tanta attenzione e che insomma sono stati così gentili anche nelle loro riflessioni rispetto al nostro lavoro per noi l'occasione del centenario della nascita del pc è stato un momento e la spinta per provare a ripensare innanzitutto quelli che erano i nodi storici presenti in quell'anno quindi provare a rituffarsi proprio nel contesto preciso di quell'anno per provare a rivederlo rileggerlo con naturalmente tutto quello che abbiamo saputo dopo e quello che la storiografia poi la documentazione ci ha dato tantissimo anche negli ultimi anni pensiamo dopo la caduta del comunismo per esempio anche dagli archivi sovietici e così via il discorso non voleva essere un una riflessione su tutta la storia del del partito comunista naturalmente non potevamo impedirci perché sarebbe stato monco il discorso di fare qualche puntata qualche riflessione anche sul soprattutto sul dopo e sul partito nuovo però lì è tutta un'altra storia e quindi l'ampiezza anche della problematica come ricordava hobel è è maggiore e si può discutere un po' ma non era l'effettiva centralità del nostro lavoro la centralità era che cosa la guerra comporta il risultato che la guerra ha in russia e che è la rivoluzione e la guerra e la rivoluzione che sono quelle che determinano il quadro generale entro cui poi nasce e si sviluppa il il partito comunista in questo senso eh in tutta la sua storia eh perché poi ci sarà la seconda guerra mondiale come è stato eh ricordato eh all'inizio nel ventuno è l'idea che è un po' tardiva ma che è ancora presente e qui il problema di questa sorta di ritardo continuo delle parole d'ordini dell'attenzione dell'analisi rispetto a una realtà che già si sta modificando credo che sia eh un eh interrogativo importante da affrontare perché è un po' una eh continuità che esiste in tutta la storia del partito comunista eh e quindi l'attualità della rivoluzione che spinge a far nascere il partito è in realtà eh inesistente lo era eh a livello generale come aveva dimostrato la Germania ma insomma ormai anche se ci fosse stata l'occasione rivoluzionaria era ormai eh passata eh e diventava importante invece eh l'appoggio alla rivoluzione alla rivoluzione russa con la seconda guerra mondiale abbiamo una eh una posizione analoga l'accettazione della realtà in cui si trova l'Italia cioè eh dopo gli alta dentro il eh il vincolo del capitalismo entro cui combattere naturalmente e fare eh tutto quello che si può eh però è quello e anche la difesa dell'URSS che ormai dopo la seconda guerra mondiale è diventato un campo un vasto campo e quindi di nuovo sono però guerra e unione sovietica in qualche modo che vincolano ora naturalmente questo vincolo non significa che c'è eh che non c'è spazio di manovra autonoma poi per il partito eh dopo la prima guerra mondiale è sempre minore perché è arrivato il fascismo il partito è fuori legge c'è la clandestinità e forse da questo punto di vista eh c'è maggiore libertà nel pensare eh al futuro ma un futuro che non si sa quando potrà avvenire e che verrà quella riflessione eh non a caso utilizzata soprattutto negli anni cinquanta e sessanta più che eh negli anni in cui si combatte il fascismo eh clandestinamente eh soprattutto perché poi sarà di nuovo l'altra guerra la seconda guerra a far cadere il fascismo e quindi a mettere in moto un meccanismo e una realtà che non era quella eh prevista nelle discussioni degli eh degli anni trenta ecco quindi eh il eh il peso della guerra è un peso che è tra l'altro diverso nella Russia ed è diverso nell'Italia in Russia ha portato la rivoluzione in Italia porta al fascismo e questo è un momento di riflessione che tarda invece perché la riflessione sul fascismo come sappiamo comincia eh a essere fatta purtroppo e non soltanto eh dai comunisti ovviamente eh quando ormai il eh fascismo è stato eh vincitore ed anche la riflessione che noi abbiamo ricordato perché ci sembrava eh quella eh più interessante più originale anche di Gramsci nel ventiquattro eh è però una riflessione che non fa i conti con quello che intanto è avvenuto cioè con il fascismo che proprio sta dando la mazzata finale e il passaggio al eh regime eh da lì a eh a pochi mesi e quindi questa distanza in qualche modo che c'è tra eh la riflessione eh sia quando è originale interessante e anche quando invece è più appiattita eh o sulle posizioni dell'URSS o su le diverse posizioni che sono all'interno del movimento operaio perché non dimentichiamo che forse il momento in cui il partito comunista è più autonomo e critico nei confronti eh del del partito comunista sovietico del partito comunista dell'URSS russo perché ancora non è sovietico eh è proprio nel nel ventuno ventidue in qualche modo pensiamo al eh litigio famoso tra eh Liening e Terracini proprio sulla questione del conquistare la maggioranza della eh rivoluzione eh questo per quello che riguarda eh la la parte fondamentale della nostra riflessione della nostra riflessione un brevissimo accenno al alla rivoluzione come processo e alla rivoluzione come processo popolare eh ecco questa è una effettivamente fase nuova eh che però si scontra con eh dei eh delle problematiche delle contraddizioni eh che eh non credo siano state eh pienamente eh affrontate quando era necessario farlo cioè soprattutto nel eh decennio quindicennio dopo la eh seconda guerra mondiale la prima era è ancora possibile nella situazione che si è determinata dopo la seconda guerra mondiale una uscita dal capitalismo da parte dell'Occidente che non è stato aiutato a prendere il potere dall'armata rossa come è avvenuto nell'est ecco quello è eh un problema fondamentale che mi sembra eh la riflessione sulla democrazia progressiva non affronta pienamente che quindi lascia un po' in in ombra perché è proprio quello il eh punto di eh difficoltà eh e che si lega poi con il fatto che eh dopo no ma in quegli anni in modo modo invece molto esplicito soprattutto da parte di Togliatti l'uscita dal capitalismo e cioè la prospettiva socialista è quella che fa riferimento all'Unione Sovietica e al modello di società che l'Unione Sovietica eh ha ha costruito eh certo ci saranno ma e soprattutto successivamente le prese di distanza di autonomia le critiche anche rilevanti che verranno fatte nel tempo ma eh nella fase in cui c'è bisogno di questa elaborazione nuova della rivoluzione come processo e come processo che deve coinvolgere eh il popolo in modo molto ampio eh il giudizio sull'Unione Sovietica e su quel modello è un giudizio appiattito su una realtà eh chiaramente indifendibile dai punti di vista dei valori socialisti che sono sempre stati eh ricordati ma nello stesso tempo non c'è neanche una chiarezza sul fatto se la rivoluzione si potrà o non fare si potrà davvero uscire dal capitalismo quando le condizioni della guerra fredda lo eventualmente rendessero possibile io mi fermo qua grazie professor Flores sentiamo il professore Guzzini grazie a tutti naturalmente come è già stato detto ehm l'idea nostra mia di Marcello all'inizio era che possiamo dire di più di Paolo Spriano cioè qual è il punto di vista nuovo che possiamo offrire a quella generazione precedente che aveva fatto quel lavoro egregio che rimane ancora appunto di riferimento il punto di vista nuovo è l'ottantanove e cioè il fatto che sostanzialmente la fine dell'Unione Sovietica e la fine del PCI anche se poi è una fine non del tutto definitiva coincidono eh noi citiamo una polemica dell'ottantadue tra Terracini e Spriano medesimo perché Terracini recupera le parole che Turati dice al al congresso di Livorno siete onesti e quindi tornerete sulla vostra strada e ci ritroveremo nell'ottantadue Terracini dice parole profetiche e Spriano si risente si risente perché difende l'oggetto del suo studio la differenza io e Marcello siamo stati anche iscritti militanti del PCI però non abbiamo più quel problema di doverlo difendere e quindi questo ci dà una maggiore libertà al tempo stesso ragioniamo su una vicenda che si è conclusa in una maniera che secondo me questa sincronia internazionale non è priva di significato abbiamo avuto rifondazione comunista però diciamo che il tentativo di esprimere una continuità di un soggetto politico nazionale il partito comunista italiano come qualcosa che poteva fare a meno di quel legame di ferro con l'Unione Sovietica e beh insomma ha dovuto fare molti passaggi e e si è rivelato diciamo più debole di quello che non si potesse al momento prevedere allora questa sincronia ci dice però qualcosa questa cosa è stata detta da Cerca e anche ripresa da Uber eh il nesso con la guerra allora c'è una prima guerra in cui noi non ci vogliamo stare in cui noi non vogliamo entrare è la guerra imperialistica il rifiutare quella guerra ci pone in una situazione di estrema minoranza contro le nostre società nazionali che non solo in Italia ma in Francia in Germania in Russia votano a favore dei crediti di guerra noi siamo automaticamente la forza rivoluzionaria perché neghiamo la guerra nella seconda guerra è quasi la posizione opposta entriamo in questo conflitto come alleati antifascisti di uno schieramento ampio perché quella guerra l'ha voluta quel nemico che non casualmente è uscito dalla prima guerra mondiale allora vedete che è un partito che deve fare due movimenti quasi opposti simmetrici tra di loro e per questo noi insistiamo diciamo su queste rotture di continuità e diciamo appunto io da cerchio è tutta una storia differenza perché c'è proprio un un processo storico che ti colloca di per sé su un fronte che è completamente diverso nel 21 tu hai la fiducia perché l'hai visto fare in Russia che basta essere in pochi ma legati a una dottrina coerente applicandola con fredda geometrica determinazione l'ingegnere Amadeo Bordiga per vincere nel 43 hai un atteggiamento che ti è imposto dalle cose che è completamente diverso hai bisogno degli altri hai bisogno della più ampia unità devi stare dentro un processo popolare questa guerra la combattiamo perché è una guerra di popolo non è più la guerra imperialistica come come la prima ora questo questo cambio di atteggiamento come lo vediamo noi come un primato della politica estera cioè noi siamo abbastanza convinti che nel determinare poi le varie svolte e anche la forma mentale dei leader da Gramsci togliatti a Berlinguerre l'elemento della situazione internazionale sia stato l'elemento decisivo non soltanto per il legame con quella parte di mondo con l'unione sovietica che come abbiamo visto era decisivo perché Amendola che è diciamo il leader dell'ala moderata riformista che negli anni sessanta ridisce torniamo indietro sul Livorno e rifacciamo l'unità tra partito comunista e partito socialista la vendola della politica dei sacrifici del ruolo del nazionale della classe operaia approva unico in direzione l'invasione sovietica dell'afghanistan nel 79 è una contraddizione sembrerebbe assurda perché vive quello stesso elemento mentale senza quella parte di mondo noi non ce la faremo ed è stato buon profeta Amendola pur essendo quasi in contraddizione con se stesso perché lui nel 56 è individuato anche dal coiere della sera dalla stampa cosiddetta borghese tra virgolette come il probabile sostituto comunque l'antagonista disegnato di Togliatti proprio per la sua posizione più critica nei confronti del legame di ferro con l'unione sovietica allora se noi vediamo il compromesso storico di Berlinguer in questa chiave cioè di questo primato della politica internazionale noi ci rendiamo conto di quanta ci sia di coerenza quello che diceva Obel nella storia del PC perché la svolta di Salerno esattamente la stessa cosa stiamo qui dentro questa parte del mondo dobbiamo accettarne i vincoli in modo creativo e questo faranno Togliatti questo faranno faranno Berlinguer non per caso si parla del Cile come come la politica del compromesso storico allora io qui vengo e non per caso la figura di Lenin è una figura che fino all'ultimo Berlinguer difenderà a spada tratta negli ultimi interventi parlerà del Leninismo del partito comunista italiano come di una chiave di interpretazione del mondo e della politica della della politica politiciena nel senso proprio anche più tattico della parola Cerchia poneva questo problema no dice siete proprio sicuri se ho capito bene che già a metà degli anni ottanta il partito comunista e i partiti italiani abbiano esaurito il loro ruolo cioè che questo dinamismo della società civile referendum sul divorzio non avesse ancora la possibilità di esprimersi la domanda è assolutamente ben posta io do alcuni dati e cioè nel 1987 comincia per la prima volta a invertirsi il il trend che è sempre stato crescente dal 45 della partecipazione elettorale nell'87 e da allora in maniera altrettanto costante a me fino ai giorni nostri questa tendenza va a calare qual è l'elemento politico che io interpreto e con Marcello appunto abbiamo discorso tanto dietro questo inversione di tendenza c'è il fatto che una nuova generazione di italiani che non ha più avuto il problema di sopravvivere di mettere insieme il pranzo con la cena e che quindi guarda a un orizzonte nuovo di vita diritti civili femminismo consumi di massa questa parte di italia all'inizio entra col 68 nella politica vivendola però in modo soggettivistico alcuni in maniera critica nei confronti dei partiti come forma unica di impressione della politica dando vita a movimenti eccetera un'altra parte invece stando anche dentro il partito comunista quella dimensione diciamo si esaurisce nel 76 che ha il voto più bipolare di tutta la storia elettorale italiana bc e pc prendono credo quasi il tre quarti dei voti però lì è l'acme perché poi quella capacità riformatrice non c'è solo il divorzio ci sono le regioni c'è lo statuto dei lavoratori c'è le pensioni minime c'è l'irpef se noi guardiamo quel periodo 1965 75 probabilmente abbiamo il periodo più riformatore dell'intera storia d'italia degli ultimi due secoli e lì si interrompe rifinisce lì non hai più c'hai la legge sull'aborto il referendum ma insomma sono gli ultimi bagliori di un crepuscolo e secondo noi quella generazione prende altre strade fa la terza italia partite iva magistratura democratica la polizia che si autoriforma dall'interno col sindacato medicina democratica cioè quel movimento soggettivistico politico del 68 poi non più trovando rispondenza nella capacità riformatrice dei partiti va per altre strade e trasforma l'italia perché poi è quell'italia consumistica nei suoi pregi e nei suoi anche molti e grandi difetti che piano piano non riconosce più nella politica una chiave per il miglioramento della propria anche individuale esistenza che è un processo credo che abbiamo fino ad oggi ecco berlinguer parla di austerità no secondo me questo è un punto abbastanza significativo perché c'è da un lato la capacità quasi profetica di interpretare i verdi l'ambientalismo l'ecologia il riscaldamento climatico cioè c'è una dimensione che è completamente nuova per la cultura politica comunista ma cheppure in quegli anni sta muovendo i primi passi e poi crescerà ed arriva fino ai giorni nostri dall'altra però è il tasto completamente sbagliato opposto a quelle aspirazioni consumistiche post materialistiche che quella generazione nuova cresciuta negli agi diciamo almeno nella sua maggioranza eh si sente di portare avanti e quindi c'è una visione se metti insieme austerità e compromesso storico non l'alternanza quando invece nel settantacinque te hai il voto in molte giunte eh anche le giunte regionali perché si vota già e quella è una novità ma anche in molti capoluoghi eh hai la spinta a un governo di sinistra hai la spinta a un'unità delle sinistre che è anche una spinta europea perché appunto cerca di poi eh di 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 come dire omogeneizzarsi al fatto che in Francia c'è Mitterrand che 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 in Germania c'è Willy Brandt insomma che che da altre parti le sinistre stanno unite e esprimono un'alternanza al governo eh tutte queste idee faticano enormemente a entrare a trovare cittadinanza nella cultura politica del del PC eh il destino tragico di Berlinguer è quello di assistere alla propria sconfitta cioè quando Berlinguer nell'intervista non mi ricordo con con chi era eh dice il governo degli onesti che è il tentativo di dire ho di fronte De Mita e Moro non c'è più di là c'ho Craxi dove vado dove lo faccio il compromesso storico e lì è il tentativo estremo disperato di varcare le colonne d'Ercole cioè di trovare una qualche formula che non stia più dentro nella prima svolta di Salerno nella seconda svolta di Salerno ed è un avventurarsi in un mare ignoto in cui sei solo in cui questa proposta politica fatica a trovare una dimensione di di rapporti di 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 alleanze di 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 anche di interazione insomma quindi e e perché c'è questo qua e qui c'è anche un destino tragico di coincidenze no perché poi eh tu hai bisogno della distensione internazionale e invece se ricordate quei primi anni ottanta sono gli anni degli aeromessili degli SS20 appunto dell'invasione sovietica in Afghanistan il cremelino è in mano a un'ala che cerca dopo il Vietnam di dare un bel colpo anche per vie militari appunto l'Afghanistan poi il corno tra Africa eccetera al al rivale degli Stati Uniti e quindi ristringendosi la distensione internazionale si restringono anche gli spazi per il PC è come se la morte di Berlinguer prematura fosse la conseguenza di questa progressiva chiusura isolamento politico e per me sostanzialmente la storia del PC finisce lì cioè dopo diciamo è stato una un'agonia eh hai avuto Gorbaciov che per un attimo per quello dicevo poi c'è anche la sfortuna no nella storia se magari se Gorbaciov arrivava un po' prima Berlinguer trovava un interlocutore e quella parte di mondo avrebbe potuto aprirsi con esiti forse molto forse meno catastrofici eh però appunto poi ci sono anche queste sfasature nella storia e e Gorbaciov è stato appunto l'apprendista stregone che poi ha messo in movimento messo in movimento delle delle forze più grandi e che poi hanno portato alla scomparsa di 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 quel mondo finisco dicendo che cosa oggi possiamo dire ai ragazzi ai giovani ai nostri studenti di questa storia eh direi soprattutto una cosa che i partiti politici sono importanti e e questo dirlo a un ragazzo oggi mi sembra una cosa difficilissima da far capire perché naturalmente loro hanno dei partiti una una immagine e un'esperienza anche di realtà lontane dalla loro vita che esprimono un professionismo deleterio che tendono più che altro a difendere e salvare se stessi come professionisti di quel mestiere piuttosto che a immaginare soluzioni che possano cambiare la vita di tutti eh per tre generazioni almeno di italiani eh e per diversi milioni perché stavo partito aveva avuto anche due milioni di iscritti in certi momenti quando il partito lavorista della socialdemorazione inglese arrivavano al cinque seicento mila eh il PC era presentato questo cioè qualcosa legandoti al quale potevi sperare che la tua vita cambiasse oggi i ragazzi non ce l'hanno più questa cosa è molto difficile immaginarsi un ritorno di partiti pesanti veri seri io non rinuncio a a averla questa speranza Marcello dice che sono un illuso e forse e forse a ragione lui grazie professore fatto dei dei numeri mi ricorda quando alessi il salto di Ulm di Lucio Magri anche lui faceva queste considerazioni sulla grande portata del partito comunista i grandi iscritti e vogliamo fare un secondo passaggio che dite un passaggio conclusivo Alex Gianni prego Gianni è estremamente interessante devo dire dovrebbe durare di più insomma le discussioni di questo genere sono quelle che ti arricchiscono eh tantissimo voglio dire tanto per incominciare sono abbastanza vecchio per essere stato iscritto al PC anch'io vi assicuro negli ultimi anni però insomma ho avuto anch'io la testa di quel partito e e sì è un ricordarlo e rispetto al contesto attuale ha un sapore forte Giovanni Gossini è assolutamente ragione così distante no dagli fenomeni che sono sotto i nostri occhi non posso non dire che non ho nostalgia un quel di rispetto a quella capacità di integrazione di di costruzione di senso di identità di anche di educazione alla politica e alla democrazia che hanno rappresentato non solo il PC ma i grandi partiti di massa insomma in questo paese bisognerebbe immaginare mettiamoli in questi termini una la costruzione di nuove forze nuove un nuovo tessuto intermedio no che abbia questa capacità e questa forza per il valore per come dire per il destino della nostra democrazia no per il significato che questo può assumere eh oltre che per diciamo le considerazioni che sono più specifiche rispetto ai nostri valori ai nostri scelte a quella sinistra che evidentemente al centro delle nostre preoccupazioni insomma mettiamoci un punto perché mi riederebbe un altro appuntamento e ben altro e ben altro tema rapidamente sulle questioni di merito che sono state sollevate io sono assolutamente d'accordo che il tema del vincolo esterno nella vicenda dei comunismi e anche il partito comunista italiano sia fondamentale ritengo però anche che come dire il tema del 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 modo suo malgrado si potrebbe dire insomma quasi come una battuta in cui il vincolo interno cioè l'esperienza nazionale impatta sull'esperienza del PC ha un un peso estremamente notevole insomma Ebel prima accennava il fatto che eh la condanna a dover affrontare e il la riflessione sul valore delle libertà politiche civili in un paese che viene travolto dal fascismo no e più in generale si potrebbe tradurre come come dire la condanna suo malgrado ad appartenere ad un campo occidentale che lo costringe a riconsiderare alcune radici ideologiche e culturali che hanno una matrice liberale no fin da fine dal principio eh lo dico anch'io con una battuta insomma il libro di François Fourier no che nel passato di un'illusione che parla dell'antifascismo come il cavallo di troio utilizzato dai comunisti per infilarsi nel campo della democrazia l'ho sempre ribaltato nel senso che mi è sembrato che l'antifascismo l'esperienza della guerra il modo in cui ha impattato no sull'esperienza di un partito come il partito comunista italiano per eh abbia rappresentato esso l'antifascismo il cavallo di troia nel campo di questo partito cambiandone la pelle con tutte le contraddizioni conservando se volete quelle che sono state chiamate doppiezze con con la difficoltà ad essere eh coerenti fino in fondo su alcune su alcune su alcune questioni ma quel quella esperienza nazionale io credo che abbia avuto un peso anche nella nell'articolare una specifica più originale che non trascurerei e la vicenda di Amentola mi sembra una conferma di tutta questa ragione eh come bozzini a ricordare che sembra paradossale no che Giorgio Amengola si alzi in in direzione e sia in grande solitudine il difensore della scelta dell'Unione Sovietica di invadere invadere l'Afghanistan in realtà diciamo lì c'è un elemento di straordinaria coerenza lui resta un un uomo che non che non amava non ha mai amato e non amerà mai insomma l'Unione Sovietica e non solo per il passaggio del cinquanta sei basta il fatto che sarà uno dei dirigenti di punta del partito comunista a visitare pochissimo insomma i paesi i paesi d'oltre cortina in quella storia lì pesa molto pesa insieme al vincolo esterno che pesa per tutti ovviamente perché chiaro ribadisco insomma sarebbe impensabile immaginare la storia del pc senza eh come dire l'un ancoraggio no all'esperienza alla storia eh dell'Unione Sovietica ma nella nella vicenda di Amentola il peso di un'idea quella di una eh come del terrore del del caos del crollo della civiltà dei partiti come principi d'ordine ma anche dell'ordine geopolitico no come argine contro le barbarie che sono eh figlie diciamo del sua della sua specifica politicizzazione del rapporto eh con la vicenda italiana e dell'omicidio del padre che è una delle ragioni di fondo che poi poi lo portano anche a radicalizzare un'esperienza ad approdare al partito comunista nonostante un'esperienza e come dire una formazione completamente strania non dico ai comunisti ma è come all'esperienza socialista della sinistra italiana io ho il piacere di leggere i suoi temi di liceo in cui le 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 in alcuni di loro c'è un attacco di fondo alla alla cultura alla cultura marxista c'è un bellissimo tema che parlava della scoperta dell'America di Cristoforo Colombo in cui esalta il tema dell'individualismo contro l'esperienza socialista contro l'esperienza del materialismo storico si forma come dire dentro un'ottica dentro un rapporto anche se non fu uno studente brillantissimo in tutta una prima fase quasi costretto minacciavo dal padre insomma a mettersi sui libri però c'è si forma nel rapporto profondo con i valori di Giovanni Amendola tutto questo come dire in qualche maniera resta che appunto questa ricerca di un principio ordinatore contro quella e quella caduta io credo che la ritrovi nel partito la ritrovi anche in quest'idea di un mondo bipolare che alla fine da un contesto no la eh quando Amendola difende lo farà a più riprese l'idea che non bisognasse mettere in discussione eh eh la strada scelta dall'Unione Sovietica Amendola è eh ostile alla diciamo alla alla polemica che Berlinguer apre negli anni settanta nei confronti dell'Unione Sovietica no sul l'el quando Berlinguer va nel settantasette a dire che la democrazia e la libertà sono valori universali altro che via nazionale al socialismo eh le le Amendola non sostiene eh diciamo questa questa riflessione eh nella discussione in direzione nazionale ovviamente non pubblicamente insomma la discussione di Berlinguer perché non perché si era accordo con l'Unione Sovietica ma perché concedere all'Unione Sovietica di fare la propria strada significa poter dire all'Unione Sovietica noi facciamo quello che noi vogliamo e difenda l'autonomia della vicenda italiana io quindi non sto dicendo che conti più questo rispetto al vincolo esterno dico che c'è anche questa dimensione che rende più complessa se vogliono più contraddittoria ma anche più affascinante la storia di questo partito grazie Gianni per mettere una considerazione su Fiore sto leggendo delle bellissime pagine di di Antonio De Francesco storia delle storie della rivoluzione francese Fiore il fatto che criticasse secondo me era diventato talmente anti sinistra che avrebbe criticato anche i cracchi insomma la rivoluzione dei cracchi tornando indietro perché ormai pure resta un grandissimo intellettuale sì però bisogna tenersi dalla passione politica quando si fa la storia prego Alex sì no solo due punti abbastanza velocemente perché diciamo le sollecitazioni poste dagli autori sono tante quindi effettivamente il tempo è tiranno però due cose mi interessava dire una prima sul appunto sul secondo dopoguerra e sì è vero rimane fortissimo il legame di ferro con con l'unione sovietica in particolare fino al cinquantasei però questa via italiana trova delle sue concretizzazioni abbastanza importanti non solo nel modello di partito ma anche nella stessa costituzione repubblicana se ci pensiamo la nostra stessa costituzione Togliatti è stato un rivoluzionario costituente diceva Gianni Ferrara disegna un modello democratico progressivo cioè un modello democratico che però è destinato a estendersi con le autonomie locali con il ruolo di momenti di democrazia dal basso dei cittadini e degli utenti che sono previsti così come delinea un modello di economia mista dove la proprietà pubblica statale o collettiva ancora una volta di cooperative di eh lavoratori e utenti eh è posta come elemento non solo consentito ma addirittura auspicato necessario in alcuni settori strategici fondamentali ecco mi pare che diciamo il fatto che poi nel cinquantasei si dica la costituzione il nostro programma eh non sia un elemento strumentale ma eh in qualche modo quella idea democratico progressiva e di riforme strutturali che quindi andavano non soltanto a costruire un welfare ma anche a cambiare un po' i rapporti di forza tra le classi nella società no? Perché anche quando ci sono tutte c'è il dibattito sulle riforme degli anni sessanta sanità collocamento previdenza eccetera è molto interessante che le proposte del pc e del centro-sinistra hanno tanti punti comuni ma quello su cui si differenziano è che nelle proposte del pc c'è sempre un po' il tema del potere dei lavoratori organizzati attraverso il sindacato quindi il collocamento lo dovranno gestire i lavoratori organizzati attraverso il sindacato la sanità le unità sanitarie locali gestite da comunità eh di lavoratori e di utenti eh le pensioni la stessa cosa allora questo significava anche spostare i rapporti di forza tra le classi diciamo possiamo dire usando una terminologia classica comunque rapporti di potere nella società quindi io credo che un un disegno sia pure per grandi linee eh che riguardava proprio il nostro paese la sua specificità c'era chiaramente come è stato detto questo disegno per andare avanti aveva bisogno di un certo contesto internazionale quindi io condivido le le riflessioni sul primato della politica estera e sul primato del contesto internazionale quindi occorreva eh possibilmente che andasse avanti la distensione che le rigidità tra i due blocchi del confronto bipolare si attenuassero e quindi si allargassero i margini in ciascuno dei dei due blocchi e poi anche la questione dell'esistenza del lusso del campo socialista le cose che diceva eh Giovanni Gorsini alla fine io non le condivido completamente cioè quando i comunisti pensano di voler fare una cosa diversa qui in Italia voler seguire una via diversa lo dicono e cercano di praticarlo sanno anche che però tanto possono farlo in quanto ci sono dei rapporti di forza mondiali non totalmente sfavorevoli alle forze che diciamo che si richiamano al socialismo e quindi da questo punto di vista c'è il legame non solo per la riconoscenza no questo elemento secondo me giusto che viene richiamato nel libro no si parla proprio a un certo punto di riconosce gratitudine per quello che nel periodo tra le due guerre materialmente oggettivamente l'Unione Sovietica aveva rappresentato ma anche per un ragionamento come dire geopolitico ossia eh diciamo eh i margini per un esperimento di socialismo diverso ci saranno se i rapporti di forza nel mondo eh diciamo vedono l'esistenza di un arco variegato di forze che anticapitaliste antiimperialiste movimenti di liberazione paesi di nuova indipendenza ma anche diciamo forse prima di questi altri un campo eh di stati socialisti e questo che spiega io credo appunto anche la posizione di Amendola che veniva richiamata e come diceva Giovanni Gozzini prima aveva qualche ragione perché poi effettivamente il crollo di quel campo e poi ha ha portato con sé dei delle conseguenze negative che sono arrivate fino alla socialdemocrazia cioè fino a un'ala del movimento operaio socialista che non aveva più niente a che fare o non aveva mai avuto niente a che fare no con con quel mondo però a valanga diciamo c'è stato quindi quella idea dell'unità nella diversità cioè noi facciamo una cosa diversa però eh vogliamo che quel campo tenga e se possibile si rinnovi risolva i suoi problemi e noi cerchiamo anche di dare una mano in quel in quel senso ehm credo che avesse appunto qualche qualche ragione grazie professore Flores e poi professor Gozzini così poi concludiamo ma io solo una una piccola considerazione riprendendo questo discorso sul vincolo esterno e cioè sull'URSS a me ha sempre colpito e continuo ancora a colpire molto che eh di eh tutti i eh dirigenti eh comunisti compresi quelli che sono riusciti poi a a vivere abbastanza a lungo l'ultimo Macaluso non c'è mai stata la eh capacità davvero di fare i conti con l'esperienza sovietica eh l'unico forse eh che l'ha fatta però forse più eh parlando eh personalmente che non eh pubblicamente è napolitano eh e bisognerebbe vedere un po' anche i suoi scritti appunti cose eccetera questo perché proprio quello che eh ricordava eh veniva ricordato prima eh e cioè eh il dire eh la Costituzione è il nostro programma già dal cinquantasei in avanti la Costituzione è il nostro programma ma il nostro modello è Mosca questo veniva detto eh in quegli anni e quindi è questo che avrebbe dovuto essere spiegato successivamente quando la presa di distanza era maggiore le critiche erano molto più eh esplicite però rispetto a quel periodo si continuava di fatto a dare una giustificazione dei motivi che eh che in parte eh erano reali non erano inventati cioè mantenere eh un legame con le masse che però era il partito stesso che aveva costruito nel mito eh di Stalin di Mosca eh eccetera eccetera eh se pensiamo eh due anni dopo il cinquantasei nel cinquantotto quando viene dato eh il eh premio Nobel per la letteratura a Pasterda a quello che riescono a dire eh dato gli atti a i grandi letterati e critici del partito comunista è è qualcosa di 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 impressionante ecco e e questa esperienza viene eh di fatto o vissuta successivamente dopo il crollo dell'URSS senza una capacità di riguardare anche la propria eh la propria storia eh e questa è la cosa secondo me che eh in qualche modo mi spinge a essere convinto che è proprio nella realtà della doppiezza che è una doppiezza vera non una doppiezza né morale né eh di 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 furbizia politica eh eh c'è il eh il dramma storico del di quel partito e anche i eh limiti profondi nel eh non riuscire a diventare davvero la forza trainante per una trasformazione profonda della società italiana. Grazie professor Flores. Lasciamo concludere il professor Gozzini così poi ti salutiamo. Due brevissime osservazioni su questo punto di Marcello credo che abbia ragione Cerchia cioè nel cinquantasei Amendola e e Togliatti dicono non belligeranza. Voi fate a casa vostra quello che volete lasciateci fare almeno un pochino quello che vogliamo a casa nostra in Italia. E quindi Togliatti che aveva aperto in maniera assolutamente scandalosa col termine degenerazione le sull'intervista a nuovi argomenti termine troschista ma che voleva dire non è question del culto della personalità non è question di uno non è question di stali è question di un sistema e li chiude li chiude e e e quella possibilità di riflessione si arresta perché il partito li traccia pensa di tracciare perché poi questo questo confine di non belligeranza verrà da una parte e dall'altra varcato in più occasioni nel 68 con la cecoslovacchia eccetera. Però purtroppo l'arresto di quella riflessione ha creato poi dei problemi delle difficoltà nella cultura politica di quel partito ehm se io penso appunto quello che diceva Marcello il fatto che poi tu pensi sempre al socialismo come qualcosa di diverso e di superiore rispetto alla democrazia e quindi poi fatichi molto no? L'ultimo Berlinguer parla di elementi di socialismo che si introducono nella storia d'Italia e quel socialismo poi alla fine diventa qualcosa di nemico dell'individuo della persona. Hai scritto la Costituzione insieme alla Pira parlando della persona però poi nel nella tua cultura politica pensi che l'individuo quello che poi emerge nel 68 sia tuo nemico che abbia bisogno sempre di essere ingabbiato ehm dentro una struttura collettiva e e quindi fino in fondo non capisci l'impresa se non è governata controllata condizionata dal sindacato cioè appunto come diceva Alex da dall'organizzazione con le collettive dei lavoratori. Il punto mancante il tassello che è assente in questa cultura politica è appunto mi sembra proprio i bisogni dell'individuo e come possono trovare soddisfazione dentro una società che non smarrisca la sua coerenza collettiva cioè la sua capacità di stare insieme, la solidarietà eccetera. Ce lo ritroviamo ancora oggi ecco questa difficoltà, questo punto mancante di cultura politica perché naturalmente poi un'altra delle conseguenze è che hai sempre rifiutato il termine socialista no? Anche gli eredi del PC hanno sempre fatto dei dribbling per cercare di evitare di mettere il nome socialista perché voleva dire il tabù della social democrazia. L'ultima eredità forse del legame di ferro con l'Unione Sovietica sta in questo che hai sempre rifiutato poi ci sei arrivato un po' per la porta di servizio di aderire al mondo e forse partecipare di più a quella cultura politica ti avrebbe messo in condizioni migliori per intercettare quell'ansia di individualismo della società perché non è tutta negativa e non ti devi comportare come il prete o il padre che bacchetta sulle mani chi esprime i propri bisogni, devi capirli, devi ascoltarli. Questa capacità mancò nel PC secondo me in quegli anni insomma. Se no non si spiega Berlusconi la degenerazione della politica italiana proprio fino ad oggi se non con un deficit di capacità di ascolto. Il mio maestro che è stato ragionieri quando gli portavo un pezzo che non gli piaceva mi diceva questa non è storia è sociologia e per lui era un termine spregiativo. Il PC ha sempre fatto fatica ad analizzare la società italiana fuori da categorie allegoriche, la borghesia, il proletariato, ha sempre fatto fatica a leggere i sondaggi d'opinione, la scomposizione anche a livello individuale o di micro interessi, di sezioni, perché aveva sempre bisogno di tornare a quel modo di analizzare che poi è gramsciano, ha dei padri nobili per chiarità, però ecco nel buttare via il bambino della sociologia forse il PC ha buttato via anche la capacità di ascolto, di riflessione su come stava cambiando la società italiana. Grazie a tutti. Grazie professor Gozzini e allora ci diamo appuntamento per la prossima volta in cui parleremo del libro di Alex Sobel e che mi cerchia se vogliono quello sul PC in Campania, poi definiamo la data magari, saremo molto onorati. Noi ci pensiamo di fare a ruoli invertiti. A ruoli invertiti il professor Gozzini e i Flores parleranno, faranno da discassa. Io vi saluto e vi ringrazio a nome di Daniele Santarelli, iniziante Mastroria e di Stroncatura e Cantina Storico-Fidologico. Buona serata a tutti. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.